eccoci qua ragazzi per quest'ultima parte degli otto pacchetti che ho acquistato da pochissimo in regola sono riuscito a trovarli finalmente primo pacchettozzo Taxidis dell'Ellas poi Chiellini della Juve Sturaro del Genoa poi abbiamo qui Bisoli, questa è una doppia quindi se vi interessa già sapete che la vendo Machinoc del Palermo e infine Ledesma della Lazio qui tutto è doppio ragazzi purtroppo poco male che comunque andremo a vendere quindi recupereremo i soldi che abbiamo speso ok almeno una parte allora Carlos Carmona dell'Atalanta poi Isai dell'Empoli questo mi sembra che mi manca Best Performer 2013-2014 in contrasti Arturo Vidal della Juve questo mi è uscito ieri Gabriel Silva poi Pablo Armero del Milan e infine Davide Astorio vaffanculo quasi tutte doppie vabbè ragazzi per questa questi otto pacchetti è tutto purtroppo ne ho comprati pochissimi perché ripeto ne ho trovati pochissimi e ahimè non potevo fare altro che prendere solo questi qui allora ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale mettere un mi piace visitare la mia pagina ebay anzi il mio negozio scusate ebay e vedere le carte con vendita io ho quasi tutto di collezionismo in vendita dai pokemon a calciatori panini dvd qualsiasi cosa potete trovare poi visitate anche il mio canale fatelo visitare ai vostri amici perché oltre all'apertura e collezionismo di carte da gioco collezionabili come queste della Dragon Linux 2014-2015 ho anche pokemon che dire ho anche parte di unboxing e gameplay vario abbiamo Assassin's Creed Unity c'è Pest 2015 FIFA 14 FIFA 15 Collectors Edition Xbox 360 di Batman Arkham Origins e infine il cofanetto di Star Wars la saga completa in blu-ray ok ragazzi date uno sguardo poi c'è anche tanta altra roba altri unboxing altri video quindi date una bella occhiala al canale vi raccomando iscrivetevi sempre e mettete un mi piace un saluto da Frankie al prossimo unboxing ciao